cominciamo a dare uno sguardo alle novità introdotte nel 10 tanto per cominciare l'interfaccia prima delle novità è ovviamente una rinfrescata nel fill look e nei colori inoltre è stato introdotto il nuovo font ableton sans nella sostanza però l'interfaccia non è mutata radicalmente di fatti a sinistra troviamo il nostro browser esattamente dove l'avevamo lasciato in live 9 l'arrangement mode e canali che ora mostrano tracce un pochino più alte e con colori più pieni per creare una clip midi ad esempio possiamo utilizzare la vecchia shortcut command o control se siete su pc shift m oppure torniamo un attimo indietro ora è possibile semplicemente fare doppio clic per creare una clip midi scegliamo la lunghezza desiderata due barre è sufficiente e mettiamo nel loop di default ora la tastiera midi tramite tastiera del pc è disattivata dovremmo attivarla per poter suonare comodamente dalla tastiera scriviamo qualche nota e notiamo che ora le note midi non sono più soltanto rosse ma ereditano il colore della clip la clip inoltre è pienamente colorata questa era la visualizzazione live 9 solo l'header aveva il colore è decisamente più comoda infatti possiamo ricordarci del tipo di traccia magari solamente dal colore in questo caso abbiamo una clip midi con un colore differente da quello del canale con tasto destro apriamo menu di contesto e osserviamo una nuova funzione per assegnare il colore del canale alle clip molto comodamente notiamo inoltre dieci colori nuovi nella paletta copiamo la clip creiamo un gruppo selezionando le tracce facendo command g e proviamo a dare un colore del tutto nuovo al gruppo posso utilizzare la stessa funzione per colorare sia i canali presenti nel gruppo che le clip presenti nel gruppo molto comodo a livello di organizzazione lo stesso discorso vale per i campioni audio proviamo a caricare un loop assegniamo un colore e utilizziamo la stessa funzione un'altra novità è che se zoomiamo adeguatamente possiamo vedere come live ora ci farà vedere i singoli campioni che compongono il file audio notiamo anche una nuova miglioria questa è la traccia audio 5 se importiamo un nuovo campione questa sarà rinominata esattamente come il file audio molto comodo così possiamo evitare di avere molti canali semplicemente nominati come audio questo per quanto riguarda l'interfaccia andiamo a vedere una nuova funzione che riguarda il metronomo invece abbiamo a disposizione tre suoni al posto del classico questo è il suono che c'era in live 9 selezionato di default proviamo il click e wood disattiviamo il metronomo e spostiamoci ora a vedere le novità che riguardano EQ8 e utility due device molto comuni che sono stati lievemente rinnovati la principale novità di EQ8 è che prima si fermava a 30 Hz ora invece a 10 quindi possiamo essere molto più precisi nel rimuovere o nel modificare semplicemente la parte inferiore dello spettro per quanto riguarda utility ora abbiamo l'inversione di fase in input il gain che va da meno infinito a più 35 e un base mono uno switch che ci permette di mettere in mono una sezione specifica delle basse frequenze che possiamo comodamente decidere grazie a questo parametro